Non batte il record del mondo perché l'ha fatto Kim Yuna, ancora a Vancouver, sopra 150. Però mi dispiace, non lo so, non lo so, non lo so, non la vedevo, non la vedevo davanti a Carolina. Mostruosamente brava, mostruosamente brava. In una parola, ieri e oggi lei è stata semplicemente perfetta. È la più forte di sempre, non è in discussione. Perfetta. Non ci credo! No, 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 no. Perché devono rovinare, perché devono rovinare il nostro sport? Ragazzi ha vinto Sotnikova, io adoro Delina, ma questa è una rabbina, mi dispiace. No, 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 ha vinto Sotnikova. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!